Gentili amici, oggi è il 24 dicembre e come ogni anno succede la stessa cosa. Questa è la mia vecchia madre che sta lì sulla porta, questo è il mio vecchio negozio e questi sono tutti gli affamati clienti che tutto l'anno si onorano della loro presenza tutti gli anni e quest'anno invece li premiamo con un pasto caldo gratis. Mi dispiace per gli altri negozi che rimarranno un po' ostacolati da questa fila che copre tutte le loro vetrine, tuttavia l'iniziativa raccoglie sempre un sacco di successo e allora cerchiamo di farla ogni anno sempre nello stesso modo e con lo stesso entusiasmo. Speriamo di non chiudere il traffico qui in piazza di Spagna dove la gente spigottita non sa perché tutta questa gente sta qui ferma. Questa è la mia giornata di gloria, me la godo tutta. Ora ritorno all'ovile e li faccio mangiare perché sennò le macchine non riescono a passare e succede il finimondo. Vi saluto a tutti, tanti auguri di Buon Natale e per questa fila enorme vi saluto e vi abbraccio.